numero 4 questa frigitrice senza olio è ideale per le coppie poiché la sua capacità di 600 grammi permette di preparare cibo per due persone inoltre è un modello con un design molto compatto che permette di risparmiare spazio sul piano di lavoro include anche 6 programmi di cottura patatine barbecue snack pollo pesce torte in modo da poter cucinare i vostri piatti preferiti facilmente senza dover impostare la temperatura il tempo esatto un altro punto forte di questo prodotto è il suo prezzo competitivo che lo rende una buona scelta per chi ha un budget limitato ma cerca un apparecchio con le funzionalità di base per fare cibo sano trovi il link amazon di questo prodotto in basso nella descrizione numero 3 si tratta di una frigitrice senza olio ideale per coppie e piccole famiglie poiché ha una capacità di 800 grammi e può preparare cibo per tre o quattro persone inoltre anche se non include programmi preimpostati per preparare automaticamente alcuni piatti è dotato di quattro modalità di cottura per friggere arrostire cuocere al forno e grigliare semplicemente scegliendo l'opzione corrispondente inoltre cuoce 500 grammi di patatine fritte in soli 15 minuti compreso il tempo di preriscaldamento un'altra caratteristica che ci è piaciuta è il suo pannello di controllo analogico che è molto comodo per gli anziani perché assomiglia a modelli di forno più classici trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 2 si tratta di una friggitrice senza olio con nove programmi preimpostati patatine impanato pastellato involtini polpette verdure pollo e dolci inoltre incorpora due programmi speciali wok per piatti saltati e cucina mondiale per preparare ricette di cucina internazionale viene fornito con un accessorio per cucinare ingredienti fragili o friabili come per esempio i bastoncini di pesce include anche un libro con più di 150 ricette ed è possibile utilizzare l'applicazione my activ free per accedere ad altre 300 ricette disponibili inoltre grazie alla sua capacità di 1,2 kg permette di cucinare piatti principali per 4 persone contorni per 6 persone il che lo rende un modello ideale per famiglie numerose trovi il link di questo articolo in descrizione numero 1 si tratta di una friggitrice senza olio che viene fornita con 8 programmi preimpostati in modo da poter cucinare automaticamente patatine fritte cotolette gamberetti biscotti pizza pesce griglia o arrosto ognuna di queste opzioni preimpostate può essere facilmente selezionata tramite il pannello di controllo digitale sulla parte superiore dell'apparecchio ha anche una capacità di 1,2 kg che si traduce in portate principali fino a 4 persone contorni fino a 6 persone un punto forte di questo prodotto è che ha dimensioni compatte rispetto ad altri modelli della marca che vengono con la stessa capacità il che favorisce un notevole risparmio di spazio in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto